Benvenuti e benvenute a questo rush finale, diciamo, degli eventi che riguardano il tema della donna su vari aspetti. L'azienda US di Modena, fra i vari eventi, ha fatto questo, questo è promosso e gestito dal Cug, direttamente dal Cug, Comitato Unico di Garanzia, per chi è esterno è un organismo obbligatorio in tutte le aziende pubbliche, tutti gli enti pubblici, che come obiettivo ha il fatto di azionare tutte le azioni, attivare tutte le azioni positive per ottenere e garantire le pari opportunità, come attraverso il contrasto alle discriminazioni, che vuol dire anche contrasto alle molestie, contrasto alla violenza, contrasto al mobbing, vuol dire anche quindi promuovere in larga scala quello che è il benessere lavorativo e lo sviluppo personale e professionale. Tema di questa giornata, che è abbastanza vivace, abbiamo voluto renderla vivace e anche abbastanza corta, quindi è un webinar ma non ci occupa tutto un pomeriggio, è il tema degli stereotipi e dei pregiudizi, quindi tutti noi, tutte noi dovremmo averne sentito parlare perché stereotipi e pregiudizi sono alla base di quello che sono le relazioni come si possono sviluppare le disuguaglianze e quindi le discriminazioni, stereotipi, pregiudizi e quindi autodeterminazione, cioè stereotipi e pregiudizi si possono limitare, bloccare e non dare la possibilità di realizzare la vera e propria autodeterminazione. Ora adesso vi condivido, dovrebbe tutto funzionare, schermo 2. Perfetto, venisse. Sì, dovrebbe vedersi bene, perfetto. Allora, questo è il programma della giornata, la locandina, tutti voi l'avete visto, quindi avremo l'apertura della dottoressa Bacchi e la direzione sanitaria. Ovviamente i programmi, le attività del CUC, del Comitato Unico di Garanzia, sono anche concordati con la direzione. Questa è sempre un'ottima cosa, nel senso che li fa anche propri. La direttrice sanitaria è attualmente occupata in un altro evento, appena si libera le darò la parola. Con me c'è il dottor Savino che è già stato presentato e che ci parlerà poi di donne sporche con la sua relazione e c'è la signora, nonché già professoressa Francesca Mercury, nome d'arte ci dirà lei perché, che ci parlerà di storie di donne nel rock e come si può, come è venuta questa emancipazione. Perché cercheremo di dire in un modo così discorsivo alcune storie? Perché lo storytelling è uno dei modi più efficaci di dimostrare un evento, una realtà, un fenomeno. Quindi i fenomeni, quello di cui parliamo, disuguaglianze, discriminazioni, stereotipi, possono essere affrontati facendo delle lezioni cattedratiche. Possono essere affrontati definendo o producendo dei dati. Uno dei modi più efficaci, come dicevo, è raccontare delle storie, delle storie di persone, questa cosa delle donne che ce l'hanno fatta. È un modo anche positivo di raccontare dei problemi dove la storia ha proprio dimostrato che c'è stata una svolta. Quindi analizziamo il problema attraverso la storia, storie che poi tra l'altro sono anche molto interessanti. Pensate alla storia delle donne del rock. E questo sollecita anche un certo senso di fiducia e la possibilità anche dell'emulazione. Spero che questo sia interessante anche per tante generazioni. Quindi questa è la nostra giornata. Allora, parliamo dell'autodeterminazione e vi introduco un attimo, io sono sociologa, sociologa della salute, vi introduco questo concetto perché già autodeterminazione nello stereotipo, che cos'è lo stereotipo? È quello che si dice per strada, è quello che si dice con una battuta, è quello che si dice al bar, mica si dicono delle cose cattive al bar. Ci si confronta e le persone sviluppano un linguaggio, usano un linguaggio che è immediato. E lì però si veicola quello che è spesso il pensiero sotteso e quindi il pensiero vero di tante persone. Sono anche i luoghi dove sono molto efficaci i ripetitori di senso, quindi la strada, il bar, il senso comune e senza pensare ai social media. L'autodeterminazione come stereotipo è il fatto emancipazione, cioè libertà, cioè che cosa vuoi fare liberandoti da dei vincoli che invece la società ti porta ad avere. Per una donna, sto parlando sempre, se penso ad un ambiente didattico, sembrerebbero superate queste cose, ma voglio portarvi nell'ambiente quotidiano. Spesso una donna viene vista come prima di tutto con dei ruoli, quindi emancipazione potrebbe significare troppa libertà e cattiva capacità, ma la capacità di interpretare il ruolo di madre, il ruolo di professionista, il ruolo di compagna, moglie o compagna. Quindi autodeterminazione di prima chito è soggetto anche a stereotipo della parte negativa. L'autodeterminazione però è una parte fondamentale dello sviluppo dell'individuo e dello sviluppo della comunità. È alla base della crescita biologica, siccome che comunque dal punto di vista dello sviluppo antropologico e soprattutto biologico l'uomo non nasce come assolutamente gregario, si aggrega quando gli conviene, quindi l'autodeterminazione anche biologicamente è importante. Psicologica, l'equilibrio individuale e anche sociale. È nella dimensione sociale che si sviluppano stereotipi e stigmi. È fondamentale quindi per la crescita, per lo sviluppo. È fondamentale per la felicità. Anche qui la felicità spesso viene vista come, ma come? Abbiamo tanti problemi, la felicità si arriva bene, altrimenti no. Non è vero, perché siamo in una società che è organizzata in modo, sì, per garantirci dei beni fondamentali, dei bisogni fondamentali, che sono quelli di sicurezza, la nutrizione, la protezione, ma è organizzata ormai in tal modo che la felicità è anche un diritto, altrimenti non ci sarebbe un sistema commerciale che ci induce a soddisfare dei bisogni che sono ben altro di quelli che sono i bisogni primari. Per cui l'autodeterminazione è fondamentale anche per la felicità. La cosa importante, no, tutto questo è importante, ma la cosa a cui ci focalizziamo soprattutto questa sera, che è la principale elemento, condizione per attivare l'autodifesa laddove la sicurezza, in questo caso della donna, è minacciata, o dalla violenza, dalla violenza psicologica o dalla violenza fisica. Quindi raggiungere un livello di autodeterminazione psicologico, fisico ed economico è la prima, è la principale forma di difesa e quindi autodifesa nei confronti delle violenze. E questo quindi ci porta a riconsiderare l'autodeterminazione in una dimensione tutt'altro che superflua, come libertà superflua. Stereotipi, pregiudizi e luoghi comuni, alcune nozioni, poi ve le lascio, queste sono nozioni di tipo sociologico. Allora, nella società che si sviluppa attraverso la comunicazione è inevitabile che si creino degli stereotipi e degli stigmi. Noi utilizziamo gli stereotipi, è inevitabile, perché semplificano quello che è il significato di alcune immagini, di alcune situazioni, a secondo del contesto, a secondo dell'universo culturale di riferimento o dei modelli delle mappe mentali, come si dice in psicologia cognitiva, che ognuno può avere. Gli stereotipi quindi non sono eliminabili, sono sia positivi che negativi. Però si possono correggere quelli negativi, soprattutto quando gli stereotipi negativi sono estremamente nocivi. Vedi quelli di genere che possono nella subcultura, nella sottocultura, poi portare a delle discriminazioni, al lavoro, nello sviluppo delle persone personale, della carriera, così via, fino ad arrivare a dei contrasti così forti che è la violenza. Lo stigma è qualcosa di sempre negativo. Io che nel mio ruolo osservo e gestisco questi problemi dal punto di vista lavorativo, quindi in un'azienda Coug, in un'azienda di 5.500 dipendenti, ovviamente il mio punto di vista è l'osservazione al lavoro. Lo stigma al lavoro, cioè il marchio attribuito ad una persona, ad un gruppo che porta la disopprovazione sociale, ma è un marchio ideale, non corretto, che non corrisponda alla realtà corretta, reale, concreta, oggettiva di quella persona o di quel gruppo in base alle relazioni che ha a quel momento. È un marchio che gli viene attribuito dagli stereotipi e dai pregiudizi sociali o microsociali al lavoro. Quindi lo stigma è pressoché sempre negativo. Quindi stereotipi, una cosa slang da dire è che sono inevitabili. Nel linguaggio e nello sviluppo sociale ci sono e ci saranno sempre. Possono essere neutri, positivi e negativi. I negativi sono da correggere ed è possibile correggerli. Non è possibile, non è accettabile dire ci sono, ci sono sempre stati. E no, perché questo, se noi pensiamo ad una società che si può sviluppare, dobbiamo cercare di ottenere questo. Un'altra regola importante della comunicazione è che è uno stereotipo negativo. Come si combatte? Siccome che la comunicazione viaggia in un modo molto, molto, molto veloce, non è sufficiente e non è più così efficace insegnarlo solo a scuola o fare della formazione cattedratica, bisogna combatterlo come si combatte e non con altri stereotipi di tipo positivo che viaggino attraverso i social media oppure degli influencer che non sono solo i ragazzi giovani che sono sui social, ma sono anche degli opinion leader che possano ripetere le cose in modo efficace attraverso degli stereotipi che non sono quelli negativi, ma sono anche quelli positivi. Quindi, stereotipo negativa, la donna è adatta a lavorare in casa e non al lavoro retribuito, combatterlo con un'altra, contrapporvi uno stereotipo positivo. Queste sono alcune regolette fondamentali. I modelli femminili nella società, qua parliamo di tanti modelli, ci sono anche i modelli maschili ovviamente, i modelli anche dei giovani, ci sono tanti modelli che sono soggetti poi da dove nascono gli stereotipi e quindi i possibili stigmi, comportamento negativo nei confronti di, da modelli nella società. La donna può essere rappresentata come moglie, moglie ideale, madre, la donna sexy, la donna amante, la prostituta, l'eroina, insomma tanti modelli cui si attribuisce e ci si aspetta un comportamento adatto a quelle immagini che io, quel modello sociale, gli attribuisce. Pensate alla donna manager quanto è messa in discussione, tanto più che la segregazione verticale, la discriminazione verticale nei percorsi di carriera sono molto ostacolati proprio perché arrivare ad essere una donna manager è un percorso più ad ostacoli di quanto sia per l'uomo. Fondamentalmente ci può essere dei modelli che si prestano molto alla stereotipazione che è la donna per bene, tra l'altro sempre vista nella storia, nelle culture, tutto si collega, anche le forme culturali alla letteratura, la cinematografia che ripete, è un grandissimo ripetitore di senso alla cinematografia, ma anche i giochi di società. La donna per bene è vista con gli occhi azzurri, insomma l'immagine della Madonna. La donna invece di malaffare, io ho riportato un esempio fondamentalmente di letteratura, mi sono rifatta all'immagine la lupa del verga, però insomma la donna del malaffare, la donna aggressiva, la donna che conquista, la donna che ha potere o che vuole potere, la donna di cui avere paura, che è mora, che magari ha degli orari diversi, che è imprevedibili. Tutte queste definizioni ruotano intorno a dei modelli culturali che comunque viaggiano attraverso la comunicazione, quindi ci si può anche ragionare un attimo, ma i comportamenti in realtà sono veloci e si basano troppo spesso su degli stereotipi che hanno origine da questa cosa. Io ho fatto un riassunto, ho fatto dei cenni molto molto brevi perché poi passiamo a degli esempi reali di storie. Una ricerca, una delle più accreditate, l'Istat è molto accreditata, ha fatto una ricerca sulle stereotipi, questi sono dei risultati intermedi e adesso ce ne sono, si stanno concludendo queste ricerche, stereotipi sui ruoli tradizionali di genere. Vedete, non è tanto il numero in base al totale, è vedere quante persone in realtà ci credono ancora. Guardiamo solo il totale, senza neanche guardare la differenza, cioè gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche, come dire, le faccende domestiche sono delle roba da donna, lo pensa oltre il 20% degli intervistati, della popolazione, per cui lo stereotipo è alto, è un numero alto per questa valutazione. La donna per essere completa deve avere dei figli, vuol dire che in qualche modo la donna, direttamente o indirettamente, la donna che non ha figli è colpevolizzata e lì nasce lo stigma. per l'uomo più che per la donna è molto importante aver successo nel lavoro e questi stereotipi sono la base anche delle selezioni, dell'attribuzione delle carriere e quant'altro, non sono solo altre cose, sono molti i motivi per cui è più ostacolata il percorso di carriera di una donna rispetto al percorso di carriera di un uomo, però questi lo sono, contribuiscono a. Quindi poi ve li lascio leggere con calma, tenendo un po' quando vorrete rileggere questi dati. Negli anni in Italia la percezione degli stereotipi è andata leggermente migliorando, ma è soprattutto si è ampliata la forbice tra uomo e donna. Quindi come dire, la donna sta sviluppando leggermente una cognizione di se stessa un po' diversa, se parliamo di grandi numeri ovviamente. Cosa ci dice? Ci dice ancora una volta che l'idea di stereotipi che alla base, alla cultura patriarcale è ed era soprattutto trasversale, quindi non è l'uomo che vede solo questa cosa, è anche la donna che lo vede. Quindi ancora una volta lo stereotipo è un fenomeno trasversale. Che ora sono fatta? Me lo dici? Che ora sono? 3.5 adesso chiudo. Allora, gli stereotipi mi interessava dire che ci sono segni migliorativi negli stereotipi di genere e ci sono anche gli stereotipi sulla violenza. Questi toccano diciamo che leggere e tenere monitorato lo sviluppo degli stereotipi sulla violenza è particolarmente importante perché da qua ci muoviamo cercando di contrastare la violenza e soprattutto per monitorare quello che è la cultura che può svilupparla. Quindi leggiamo dei dati, il 48,7% degli intervistati ha ancora almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale. Quasi il 40% degli uomini pensa che una donna possa sottrarsi ad un rapporto sessuale se davvero non lo vuole e il 20% pensa che la violenza sia provocata dal modo di vestire delle donne. Come dire non è che io ti provoco se mi vesto così, io ti induco a violentarmi e non è colpa tua, è questo il concetto. Bene, due cose sulla storia degli stereotipi delle donne mediche. Allora nella storia della medicina visto che parliamo di professione ci sono degli stereotipi che sono i più consueti, i medici uomini pongono troppa enfasi sugli aspetti tecnici della medicina rispetto alle loro colleghe donne. Come dire le donne sanno gestire in modo meno tecnico o meno organizzativo perché sono più umane, perché sono più empatiche ma hanno dei deficit invece nell'aspetto tecnico oppure nell'efficienza oppure nella freddezza che è molto importante quando si pratica la professione di medicina. Le donne mediche inoltre sono troppo coinvolte emotivamente con i loro pazienti. Allora lo studio dice che gli stereotipi in realtà se uno ha una bassa stereotipizzazione non andiamo così male, però gli stereotipi ci sono. Nella storia delle professioni, interessantissimo come si sviluppa, per cui il Gender Equality Manager va a vedere anche la storia delle professioni. Alcuni dati li abbiamo visto facendo anche il bilancio di genere nella nostra azienda. Si è visto addirittura come alcuni dati molto importanti sul Gender Pay Gap, quindi la differenza salariale sulla parte variabile e alcune variabili, il fatto di avere degli stereotipi per cui una donna è più adatta a fare la pediatra o la psicologa e un uomo è più adatto a fare il chirurgo e l'ortopedico porta a delle differenze salariali per quella voce fino al 55% in meno. Quando invece sappiamo che tecnicamente sono professioni praticabili da entrambi i sessi. La donna viaggiatrice perché la riporto? Perché è quell'ambito della vita che più di tanti altri, abbiamo parlato un po' del lavoro, quindi il lavoro retribuito, abbiamo parlato un attimo del lavoro non retribuito, quindi tutto quello che è la cura all'interno della famiglia e della casa, dei figli, abbiamo anche il tempo libero. L'emblema del tempo libero è sì andare anche alla spa ma fare magari il viaggio. Su questo c'erano tanti stereotipi e la donna era considerata meno capace, meno adatta e soprattutto insomma non era il caso che una donna andasse in giro da sola con Orzano in spalla. Ci sono dei limiti oggettivi perché una donna da sola è comunque più preda di un uomo da solo viaggiando ma al netto di questi limiti tutto il resto è stereotipo e pregiudizio. Per cui anche i recenti studi hanno posto appunto in aumento le donne viaggiatrici sole, è aumentata la consapevolezza della propria autonomia e delle proprie capacità, è aumentata la necessità di libertà laddove però lo stereotipo ci riporta sempre a sei diventata libera, ti sei messa a viaggiare da sola e quindi non sei più la donna madre che sai accudire la casa. Però questo sviluppa quello che è l'autodeterminazione e l'equilibrio anche e la felicità. Non è detto che fare un viaggio da solo all'anno da sola all'anno pregiudica tutta i tuoi senso di doveri coniugali e materni di genitori, di genitorialità. Hanno comunque tante capacità come gli uomini tipo un accentuato capacità al problem solving. In sostanza io vi ho portato dei dati, vi ho dato delle informazioni molto 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 stringate però questo era il senso di questa giornata. Ora lascerei la parola, se avete poi dei commenti metteteli pure in chat. Io tolgo la condivisione perché lascio la parola al dottor Savino che ci parlerò degli stereotipi e nella nelle donne nello sport affrontando questo tema. Lo abbiamo affrontato in altre occasioni assieme. Lascio a lui tutto il tempo che vuole perché sarà molto molto interessante. Grazie. Grazie, grazie Milena, grazie a dottoressa Casalini. Io aspetto che... Che tolgo, sì. Sì. Aspetta, ok. Ok, perfetto. Provo adesso a condividere io. Vediamo. Sì. Si vede? Sì, benissimo. Allora intanto buon pomeriggio a tutte. Dico a tutte perché vedo che sono tutte donne collegate quindi questa cosa mi fa piacere da un lato ma mi dispiace perché in effetti sarebbe stato bello che ci fossero anche degli uomini ma comunque va bene poi siccome per fortuna questo webinar è registrato, lo si potrà poi vedere anche in un secondo momento. Io volevo raccontarvi un po' qualcosa, un pezzettino di quello che poi è stata ed è la donna nello sport e come non parlare di questo approfittando di una delle competizioni che è, se possiamo dire, la competizione principe nella storia dello sport antico che sono le Olimpiadi. Voi sapete che le Olimpiadi sono nate in Grecia nel 776 a.C. e sono durate per tanti secoli fino al 393 d.C. Poi per motivi anche da risultati da guerre e da questioni politiche che si sono interrotte sono state poi riprese in epoca moderna alla fine dell'Ottocento dal varone recupero. Quella che vedete raffigurata è l'immagine di una donna atleta e c'è qualcosa di strano già nell'osservare il suo abbigliamento. Vedete una tunica, una tunica che lascia un seno e una spalla scoperta. Perché? Perché intanto bisogna premettere una cosa, lo stereotipo fondamentale, si parlava di stereotipo, fin dalla notte dei tempi è stato quello che lo sport non si addice all'essere femminile, in quanto la donna è un organismo fragile, un organismo che non può sostenere lo sforzo diciamo che comporta la competizione sportiva e quindi non poteva assolutamente essere ammessa come atleta ai giochi ufficiali, ai giochi olimpici, non solo come atleta ma anche come spettatrice. Poi ci fu un'evoluzione nel corso dei secoli, fu destinata a una piccola tribuna solo alle donne sposate, ma le donne non sposate che si volessero accostare con l'inganno, comunque diciamo agli sparti delle gare olimpiche venivano addirittura eliminate fisicamente, venivano buttate giù da un monte. Quindi quella che vediamo qui però è una donna atleta e infatti nacquero dei giochi paralleli a quelli olimpici in nome della Dea Era, quindi si chiamavano le Ereidi e le donne che gareggiavano in queste competizioni utilizzavano gli abiti che solitamente utilizzavano i maschi quando si allenavano, la tunica con una palla scoperta, quindi anche un abbigliamento di ciclato se vogliamo. Queste gare che poi erano una gara perché in effetti alle Ereidi si competeva soltanto in una corsa di 160 metri, parliamo sì di un periodo che è quasi contemporaneo alla nascita degli Olimpiadi, la donna che vinceva questa competizione veniva considerata un buon partito per diventare la moglie di qualche nobile. Quindi come vedete anche il contesto atletico della donna nasce con l'obiettivo di individuare la donna migliore, meglio messa tra virgolette in salute, da sposare quindi, non tanto da premiare come capace di accendere in una disciplina. Per vedere le prime donne alle Olimpiadi, quelle ufficiali, quelle dei maschi, bisogna aspettare il primo secolo dopo Cristo, ma sono alcune voci neanche tanto confermate, si parla di tre sorelle, di due gemelle che vinsero alcune gare nella corsa, ma comunque non è neanche tanto sicuro che ci sia stata la partecipazione di queste donne. Un caso particolare ci fu nel quarto secolo, Callipatera era una donna molto abile nell'allenare, nella lotta, i suoi figli. Quando suo marito, che era diciamo l'allenatore principale dei ragazzi, morì, continuò ad allenarli lei e uno il più meritevole partecipò nel quarto secolo all'edizione delle Olimpiadi. Lei si travestì da uomo ed entrò, non potendolo fare come donna né come spettatrice, tantomeno l'allenatrice. Però alla vittoria del figlio è sul totalmente tanto che perse il suo copricato, il suo cappuccio, la riconobbero come donna e stavano per ucciderla. Solo la sua nobile origine e, diciamo, discendenza di atleti e sportivi allenatori la permesso di salvarla. Quindi è un caso particolare di un'infiltrata nel mondo dei maschi. Per fortuna abbiamo notizia, ormai quasi alla fine della storia olimpica antica, di una donna che vince una corsa di cavalli. Qui vedete la figurata cinisca, che però non è neanche lei, in quanto lei non ha mai partecipato alla corsa dei cavalli, ma era la finanziatrice della scuderia di questi cavalli che vinsero, ma Lauriga era un maschio, quindi lei da dietro le quinte fu considerata vincitrice nel 396 e nel 392 d.C. di questa gara di corsa di cavalli, pur non essendo mai comparsa fisicamente nello stadio. Quindi fu un'onoreficenza data a una donna che però di fatto non aveva mai partecipato alle condizioni. Una parentesi, anche a Roma c'era il veto per le donne e per la partecipazione a giochi e ad attività. Una cosa che non ho detto, nell'antica Grecia facevano eccezione alle spartane. Le spartane fin da piccole venivano allenate allo sport, all'atletica, a cavalcare i cavalli, insomma c'era anche la tradizione atletica di un popolo che era comunque orientato, votato alla battaglia, quindi anche le donne non potevano esimersi dall'allenamento fisico e quindi nell'antica Grecia forse erano le uniche a poter essere in grado di allenarsi, ma neanche comunque di competere perché non venivano ammesse. Dicevo a Roma, Domiziano fece costruire questo Circus Agonalis dove si tendero i primi giochi nell'87 d.C., il Certamen Capitolino, una gara di sport che voleva scignottare un pochino quelle delle Olimpiadi che non erano ben viste dai Romani, ma comunque nei quali i giochi però furono ammesse anche le donne. Quindi un piccolo, come dire, lume, barlume di coscienza i Romani lo avevano già avuto nell'introdurre la donna nello sport. Però dopo queste notizie che ci sono arrivate tramite cronache della storia antica, per tutto il Medioevo, il Rinascimento e anche nell'età dell'illuminismo di sport femminili sinceramente non se ne parla minimamente. Quindi si parla sì di tornei, di qualche disciplina praticata da maschi, ma di donne e sport non si parla assolutamente o pochissimo. Si comincia a ragionare di una disciplina praticata dalle donne l'unica che veniva consentita nella metà del Cinquecento che era l'equitazione. L'equitazione veniva considerata una disciplina che effettivamente le donne potevano praticare sulla scia della storia e della leggenda delle Amazzoni, che pare fossero appunto queste guerriere fortissime che tra la Grecia e la Turchia avessero questo esercito così forte e imponente e che si presentassero proprio le battaglie in groppa ai cavalli che però cavalcavano in una modalità particolare, con una sella, come vedete qui nell'immagine, una sella che consente alla donna di stare con tutte e due le gambe da un lato del cavallo, quindi non con l'arcione classico ma una cavalcata laterale che ovviamente non consentiva tutta una serie di caratteristiche di questa disciplina come il salto degli ostacoli dei cavalli, il galotto, ma soltanto il troppo e poco altro. E ci fu una evoluzione nella metà del Cinquecento proprio grazie a un personaggio storico che è ben noto alla storia italiana, che poi è diventata regina di Francia, che è Caterina dei Medici, che sviluppò per la prima volta e questa è un'altra conquista nella storia dell'emancipazione femminile, un indumento che oggi conosciamo tutti, che sono i mutandoni, diciamo le mutande, l'abbiglimento intimo che arriva fino al ginocchio e che fa da pantaloncino più che altro, che era assolutamente vietato fino a che appunto la Caterina dei Medici non lo introdusse proprio per consentire a se stesse e alle sue cortigiane di cavalcare in maniera più comoda, perché quando si saliva e si scendeva da cavallo le ampie vesti delle donne potevano mostrare parti del corpo che non dovevano essere mostrate in pubblico proprio perché fino a questa invenzione, a questa proposta di Caterina dei Medici pare che non ci fosse un abbigliamento intimo dedicato per la donna. Lei introdusse questo aspetto nello sport che poi dopo è diventato un'abitudine quella di creare e costruire un abbigliamento specifico e tipico per lo sport femminile, cosa che non era così dalle origini perché come avete visto le prime donne atleti utilizzavano degli indumenti maschili per gareggiare. Per la prima volta si introduce un abbigliamento tipico per favore della donna nelle sue attività. Per tornare alle Olimpiadi, come vi dicevo le Olimpiadi furono riprese in età moderna nel 1894 da un'idea del barone De Cubertene che però volle mantenere in tutto e per tutto la tradizione olimpica. Con questa frase che è abbastanza famosa, lui disse, già mai le donne nello sport, una donna che pratica sport è la cosa più antiestetica che gli occhi umani possono contemplare. Quindi nella prima edizione del 1896 di donne non ce ne furono e la prima edizione fu proprio organizzata ad Atene, anche perché De Cubertene voleva effettivamente ripercorrere la storia olimpica così come era nata. Ma ci fu una donna, una donna greca, che si riteneva in grado di competere nella maratona e quindi fece di tutto per poter partecipare. Si presentò all'iscrizione per appunto iscriversi alla maratona, ma fu rifiutata dai giudici. Provò a insistere, provò a spingere a ribellarsi con l'aiuto di altre sue compagne, ma nulla ci fu da fare. Allora decise, il giorno dopo della maratona olimpica, di percorrere la stessa distanza da maratona appunto fino allo stadio che l'avrebbe accolta per dimostrare a tutti che sarebbe stata in grado comunque di correre questa maratona. Qui la vedete nell'immagine di lei, diciamo scortata da due persone che corre questo percorso di 42 chilometri e pare all'arrivo non fu fatta entrare allo stadio perché appunto era vietato alle donne entrare, però dimostrò che sarebbe riuscita comunque a percorrere la distanza. Ci mise cinque ore e mezza, mentre la media era di circa quattro ore e qualcosa. Lei però sostenne che si era dovuta fermare perché aveva visto dei panorami meravigliosi e non poteva evitare di fermarsi e quindi aveva perso tempo per quel motivo, altrimenti ce l'avrebbe fatta anche in tre ore e mezza, disse in maniera molto spavata. Quindi fu una partecipazione non ufficiale ma all'atere di una donna che comunque poi ha combattuto tanto per i diritti delle donne nello sport. E arriviamo ai gioco lindici di Parigi del 1900 dove finalmente, nonostante tutti gli ostacoli che aveva posto il baronetico per te, cominciano a comparire le donne alle Olimpiadi. Quindi questa è stata la prima vera rivalsa dell'atleta femminile in una competizione ufficiale. E qui abbiamo appunto varie figure, tra cui Charlotte Cooper, che è la tennista che vedete raffigurata in questa fotografia, e Margaret Tabot, che sono due figure particolari. La prima, come vedete, ha già vinto un Wimbledon l'anno precedente, prima delle Olimpiadi, e vedete l'abbigliamento della tennista. Oggi sarebbe impensabile per potersi presentare in un campo di tennis vestito in questo modo, ma era un obbligo per le donne doversi abbigliare in una maniera, secondo gli stereotipi, decorosa per una donna. E lo stesso la Abbott, che è una golfista, che pare non volesse neanche partecipare, ma si trovava in vacanza a Parigi proprio nell'anno delle Olimpiadi, capì che anche le donne potevano iscriversi e si iscrisse anche una medaglia. Quindi furono le primissime donne nel 1900 a partecipare alle Olimpiadi. E arriviamo poi nel 1936, Olimpiadi ovviamente dall'impronta fortemente politica, eravamo ormai alle porte della Seconda Guerra Mondiale, e Ondina Valla, la nostra corregionale, perché è bolognese, atleta che correva la corsa a ostacoli, che vince anche lei molte medaglie da quell'anno in poi, fu un'icona della nostra nazione, ma anche della propaganda fascista, perché fu ovviamente presa ad esempio come la giovane donna, esempio per le altre giovani italiane che dovevano appunto manifestarsi, mostrarsi forti e diciamo in salute per poter sostenere la causa del partito di quegli anni. Un altro momento di rivalsa della donna nello sport è stata quella delle Olimpiadi del 68. Veniamo più vicine ai giorni nostri, le Olimpiadi della Kaslavska che vinse tante medaglie e che divenne un'attivista politica per i diritti della donna, ma fu il primo anno in cui il tedoforo, che appunto è quella figura che accende la fiamma olimpica, nello stadio dove si tengono le Olimpiadi, dopo aver percorso di mano in mano la fiaccola, tutto un tragitto che porta poi al culmine dell'accezione della fiaccola nello stadio, ecco per la prima volta nel 68 Enricheta Basilio, una brasiliana, una sigla sudamericana, ebbe il ruolo di tedoforo come per la prima volta nella storia. E ovviamente poi abbiamo avuto tante figure fondamentali e importanti di atleta nello sport, anche e soprattutto in Italia, la Caligaris nel Nuoco, poi la Pellegrini più di recente, la Vezzari nella Scherba, Sara Simeoni, se ne potrebbero citare tante altre. Quindi diciamo il concetto di rivalsa e di affermazione della donna nel mondo, in una società sempre più fatta da uomini, si è manifestato con tanta fatica anche nello sport. E a Sidney nel 2000, proprio per ricordare i cento anni dalla prima partecipazione nel 1900 della Cuper e della Abbott alla prima Olimpiadi, tutte le tedofole furono donne, dalla prima all'ultima. Quindi una presa di coscienza degli organizzatori di una realtà complessa che ancora non aveva trovato una soluzione. Perché, scusate, una cosa che non ho detto, per tanti anni il numero di atleti femminili è sempre stato inferiore, ma di molto, a quello degli atleti maschili. Nel 2012 a Londra c'è stata per la prima volta una gara di pugilato femminile. Parliamo del 2012, quindi pochissimi anni fa, in una storia millenaria dello sport. Quindi vedete quanto è difficile, quanto è stato difficile anche nello sport, l'affermazione della donna. E questo è un dato interessante. Per la prima volta, quest'anno, l'edizione del 2024, dei giochi olimpici di Parigi, che, neanche a farla apposta, sono gli stessi del 1900, quando le prime donne parteciparono alle Olimpiadi, avranno per la prima volta nella storia lo stesso numero di uomini e lo stesso numero di donne. Siamo arrivati al 2024, dal 776 a.C., per ottenere la parità di genere nelle Olimpiadi. E questo è un dato, secondo me, che deve far riflettere tantissimo. Le donne si sono emancipate. Le donne sono adesso, nello sport, presenti in tante, quasi tutte le discipline ho messo la foto della bodybuilder perché, comunque, non tanto a provocazione, ma a quanto a sostegno del fatto che anche la muscolazione può essere, quando è naturale in questo caso, non so quanto lo sia, ma comunque, quando è naturale, può essere anche una forma di manifestazione estetica da alcuni ritenuta non proprio naturale, ma ci sono anche, ovviamente, dei canoni precisi dello sport che non devono per forza ripercorrere gli stereotipi di cui si parlava prima. Ci sono stati nello sport, non solo nelle Olimpiadi, esempi di donne che hanno combattuto per ottenere dei risultati importanti, e vado alla conclusione. Questa è Catherine Schweitzer che nel 1967 si iscrissi alla Maratona di Boston quando le donne non erano ammesse. E qui vedete i giudici che cercano di farla uscire, di bloccarla, e poi c'è il fidanzato, invece, che è quello dietro, che cerca invece di proteggerla, e ci riuscì. E qui riuscì a far sì che Catherine portasse a termine la sua Maratona in quattro ore e poco più, e con il pettronale 261 si batté talmente tanto, insieme a un comitato che fu molto attivo nella lotta per l'affermazione dei diritti femminili, che nel 1972, alla Maratona di Boston, già nel 71, a quella di New York, furono per la prima volta ammesse le donne. Lei partecipò dal 72 e nel 74 la vinse. e nel 2017, a 50 anni di distanza da questa foto che vedete, per commemorare l'evento, fu fatta partecipare nuovamente la Schweitzer al Maratona in forma simbolica, col pettronale 261, che dal 2017 è stato ritirato in segno di rispetto nei confronti di questa donna che tanto si è battuta e tanto ha ottenuto nello sport femminile. E chiudo con questa notizia che è dell'altro ieri. Per la prima volta, nella squadra di arbitri di una partita di calcio maschile in Iran, la donna farà parte del team del VAR, che sapete essere quel gruppo di persone che controlla sul monitor se c'è o meno una scorrettezza, un fallo, un'espulsione, insomma tutta una serie di approfondimenti che l'arbitro magari in tempo reale non riesce a vedere. Per la prima volta una donna in un paese di cultura islamica viene ammessa a partecipare a una gara di maschi, di uomini e a decidere per loro o contro di loro. Questo secondo me è un esempio di emancipazione e di futuro migliore e più sereno non solo per lo sport ma sicuramente anche in ambito politico e sociale. Io ho voluto dare un po' un racconto di alcuni aspetti che nello sport hanno significato tanto secondo me per la donna. Ce ne sarebbero tantissimi altri, ci sarebbero tanti argomenti da trattare, ma mi fermerei qua e se ci sono domande ovviamente sono a disposizione. Bene, grazie dottor Savino. Dunque, nell'attesa eventualmente se la dottoressa Bacchi si collega io avrei una sollecitazione, io ho una domanda che ti farei io prima di dare poi la parola alla prossima ospite. Donne sport, due cose. Uno, e lo abbiamo visto anche il bilancio di genere, lo richiamo sempre perché è il processo di analisi più potente che abbiamo attivato nella nostra azienda, quindi è pubblicato, lo abbiamo visto anche lì, il gender pay gap. Nello sport professionale le donne hanno avuto delle conquiste, sì, ma molto molto tardi, ma comunque anche qui c'è un pay gap tra i più alti in assoluto. Inoltre è molto difficile applicare quegli strumenti di conciliazione vita-lavoro che ha invece una lavoratrice dipendente, quindi insomma siamo su due pianeti diversi se pensiamo allo sport del lavoro. L'altra cosa, se ci puoi dire proprio due parole su qual è il valore del corpo, cioè è stato un, da una parte, mercificato e spettacolarizzato in senso come stereotipo negativo, a danno della donna, dall'altra insomma, visto proprio come qualcosa di spettacolo e non come aspetto tecnico che deve dare invece lo sport. Quindi corpo e pay gap. Se ci puoi dire qualcosa su questi due argomenti. Esattamente. Sì, guarda, sai, le due cose si intrecciano anche molto bene perché tu hai giustamente detto che le donne, lo sport d'elite femminile non è pagato esattamente quanto viene pagato con il maschile. E questo avviene anche perché tutto ciò che sta intorno allo sport e che lo rende spettacolo, quindi i diritti televisivi, quindi tutto ciò che è la pubblicità, che è la diffusione mediatica, paga molto meno lo sport femminile perché è ritenuto meno spettacolare. Proprio per quello che dicevi, cioè perché la prestazione atletica femminile viene ritenuta di meno interesse, meno, diciamo, accattivante, cosa che io ritengo assolutamente sbagliata. Io, ma ti parlo della mia esperienza personale, ho vissuto da medico dello sport anche l'esperienza del medico in gara, quindi in banchina, che ti assiste e che interviene se c'è un problema per l'atleta. E ti assicuro che, siccome ho molta esperienza, soprattutto nella pallavolo, sicuramente la pallavolo vaschile è una pallavolo di potenza, è una pallavolo spettacolare, è una pallavolo dove tutto è più veloce, ma perdi tanto della tattilica, della strategia, della tecnica che invece riesci ad apprezzare, approfondire e a meravigliartene nello sport femminile. Capisci tutta una serie di ragionamenti che vengono fatti nella gestione del regista che passa, alza la palla, una piuttosto che un'altra perché ha visto un movimento della squadra avversaria che ha lasciato magari una parte di campo scoperta, cosa di cui non ti rendi conto in quello maschile. Quindi direi che forse non voglio fare la battuta troppo facile, ma è più semplice ed è meno impegnativo mentalmente seguire una partita di pallavolo maschile rispetto a quella di pallavolo femminile, dove devi ragionare di più, devi apprezzare di più, con un ragionamento più critico, quello che sta accadendo. Quindi dovremmo un po' svincolarci dal concetto della spettacolarità intesa come prestazione atletica fine a se stessa, ma percepire la prestazione come un complesso di manifestazioni che lo sport poi rappresenta, che sono l'intelligenza, che sono la strategia, la furbizia, se vogliamo, sempre nell'ambito dell'ecito, ovviamente senza ingannare nessuno, che nello sport femminile, la grazia, ovviamente, la bellezza, perché ci sono alcuni gesti di una bellezza e di una, diciamo, di caratteristiche estetiche che nello sport maschile non riuscirai mai a vedere e che invece sono tipici degli sport femminili. Inevitabilmente non si possono paragonare lo sport maschile e quello femminile se vogliamo usare un canone unico. Ci sono ancora tante cose da sistemare, per esempio nella pallavolo, poi mi fermo, il campo viene adattato con le donne, perché il campo è di dimensioni uguali, ma la rete è più bassa. Nel calcio questo non avviene, il campo è uguale per tutte e due. Allora, se si riuscisse a ragionare anche su degli adattamenti, in base alle possibili caratteristiche e potenzialità della donna, avremmo sicuramente una spettacolarità maggiore, anche dal punto di vista estetico e atletico. Grazie, Gustavo. Io lasciavo un'ultima testimonianza su questo argomento. Invitavo chi ci sta seguendo e chi ci seguirà anche nel futuro a seguire degli eventi. Spesso ci sono degli eventi dove si mettono, si mette a nudo e si cerca di spiegare come sono gli stereotipi, come è vissuto lo sport femminile. Sono molto, molto interessanti, oltre ad essere interessanti dal punto di vista sportivo, ma sono proprio interessanti di per sé. Quindi è bello vedere, per esempio, un'allenatrice o un allenatore che parla del volley, che parla del basket, che parla del calcio. Ci sono stereotipi in entrambi, in tutti e tre gli sport, ma in quello del calcio sono particolarmente evidenti. E mi ricordo bene, vi lascio questa testimonianza, io l'ho seguita spesso, Milena Bertolini, non solo perché insomma vive vicino a me e a due giorni più di me, l'ho sempre stimata molto, quando una volta portando la sua squadra in campo erano così volgari e aggressivi i commenti che non erano commenti in generale del tipo, non vale niente, contro la squadra o di tipo sportivo, erano commenti sessisti, erano solo commenti sessisti, tanto più che l'allenatrice bloccò e disse adesso noi ci ritiriamo e questa partita non la giochiamo. Quello secondo me è stato un segno molto forte. Bene, io ringrazio Gustavo che ci segue qui con noi. Adesso, sempre in attesa, se si dovesse collegare la nostra direttrice sanitaria, io vi presento Francesca Mercury che è qui vicino a me. Allora, abbiamo scritto nel programma esperta di musica rock, di rock femminile, di storia della musica. Non è solo di questo, Francesca Mercury che gestisce un'esperta di eventi musicali, spettacoli musicali molto, molto interessanti, c'è molto vicina, e uso questo termine proprio perché si è impegnata, e si impegna molto nell'ambito proprio della violenza contro le donne. Per cui due anni fa, chi si ricorda, a novembre noi presentavamo, facciamo un evento, il CUC fece un evento sulla violenza di genere dove abbiamo presentato anche un video sulla violenza di genere dedicato al femminicidio di Giulia Gagliotto, quindi la nostra sassolese, è realizzato grazie a Francesca Mercury. Quindi c'è vicina in tanti sui temi, noi ce l'abbiamo qui per la sua competenza, per la sua vivacità con cui lei conosce questi argomenti attraverso quello che ama, che è la storia della musica che porta in giro attraverso gli spettacoli e gli eventi in questo modo. Ci parlerà di alcune storie, quindi Francesca è qui con noi, Mercury è il nome d'arte, ma va bene così, ci piace molto, anche professoressa di lingue. Io, se vuoi iniziare, intanto ti condivido le immagini. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e ringrazio anche ovviamente alla dottoressa Milena Casalini che, come ha detto prima, è anche un'amica, oltre a essere una donna che io stimo tantissimo per tutto quello che fa. Volevo ringraziare Patrizia Bertacchi, volevo ringraziare il dottor Savino, anche lui è un amico e ci unisce appunto anche la passione della musica e le donne nella musica che hanno fatto sentire la loro voce nonostante tutto. Volevo fare una piccola premessa del perché i miei spettacoli sulla storia della musica, soprattutto anche sulla storia di donne importanti, hanno per me una certa rilevanza perché ritengo che la musica sia un veicolo per poter arrivare a tutti in modo molto naturale e immediato. Ritengo che sia anche un modo, tra virgolette, se mi permetti il termine, più light, anche per parlare di temi importanti come appunto la violenza e io vedo anche quando realizziamo questi spettacoli che parliamo al pubblico con il linguaggio della musica rimane molto più impresso rispetto magari ad ascoltare una persona magari parlare per tanto tempo che magari rimane poco mentre proprio anche l'impatto sonore, anche visivo, perché i nostri spettacoli comunque hanno anche una parte visiva importante e ritengo proprio che sia un veicolo molto immediato. Oggi vi racconterò di quattro donne nella musica ma si potrebbe estendere comunque in generale alle donne nell'arte, quindi nella pittura, nel cinema, donne che hanno avuto delle storie di riscatto che hanno lottato appunto come è il tema di oggi, i pregiudizi, i estigmi e questi stereotipi contro i quali tutte noi donne che comunque lavoriamo nella musica e anche in tutti i campi ma soprattutto in quello che è la musica dobbiamo appunto subire perché come vedremo il music business e il mondo musicale è sempre stato considerato una prerogativa maschile e in realtà ci sono delle donne, io mi preparo anche sempre delle cifre perché dici tu a volte dici queste cifre, qui si parla di milioni di dischi, si parla di milioni di views adesso che magari con le nuove artiste si parla di milioni di streaming quindi io li premi, io li leggo spesso per dire che queste figure nella musica hanno veramente fatto tanto, sono state un esempio di quello che io definisco l'empowerment femminile, sono diventate dei simboli, delle icone, hanno raggiunto traguardi importanti lottando contro convenzioni, contro partner spesso violenti o in aperta posizione contro il perseguire dei loro obiettivi e questo music business che considera appunto le artiste femminili di serie B rispetto ai colleghi maschili. Situazioni di povertà sia economica che culturale imposte appunto da questa mentalità patriarcale dalle quali loro sono uscite a testa alta con tanta forza e tanta determinazione. La prima artista di cui voglio raccontare è la meravigliosa Tina Turner che è scomparso l'anno scorso lasciando veramente una storia incredibile, lasciando un vuoto anche nella musica. Tina Turner inizia negli anni Sessanta con il marito Ike Ike Turner e hanno un sodalizio artistico e anche ovviamente nella vita. A un certo punto nel 1976 dopo 16 anni di sodalizio artistico ma anche di vita di coppia terribile e violenta lascia al termine dell'ennesimo litigio dell'ennesime botte perché di questo si parla da parte del marito lo lascia lo molla proprio dopo un concerto in un hotel di Dallas in cui lui ubriaco fradice come sempre aveva usato violenza nei suoi confronti e scappa decide finalmente di scappare. Pensiamo al contesto di allora pensiamo comunque anche agli anni Settanta in cui anche era difficile probabilmente per una donna dire ma io da sola ce la farò avrò i mezzi pensiamo anche a questo dobbiamo anche proprio contestualizzare perché lei è stata tanti anni con Ike perché probabilmente non aveva il coraggio di prendere questa di fare questa scelta scappa si veramente prende immagino la scena prende la porta inizia a correre a correre e ha in tasca solo una tessera della benzina e 36 centesimi racconto lei vede un motel vede l'insegna senza pensarci un attimo ci si infila ci si butta dentro nel frattempo il marito le dice che cosa vuoi fare senza di me la tanto la fama tu l'hai tenuta solo grazie a me parole testuali e le disse senza di me tu non combinerai mai nulla Ike a Tina Turner senza di me tu non combinerai mai nulla lei comunque continua a correre e si rifugia e riparte dalla gavetta riparte dai pub riparte dalle piccole dalle piccole situazioni lei talmente tanto talentuosa che è talmente tanto determinata che parte dai piccoli pub e pian piano inizia la sua e ha ricominciato in questi piccoli locali in cui lei una volta disse io speravo che arrivasse gente allo stesso tempo speravo di non vedere mai arrivare l'ex marito Ike è una rinascita lunga e difficile e culmina nel 1984 quindi esattamente 40 anni fa quando il suo brano What's love got to do with it è il primo è al primo posto in classifica in tutte le classifiche americane e anche poi mondiali 40 anni fa ed è un successo veramente sorprendente è un successo voluto grazie a a questa sua forza questa sua questa voglia di appunto di riscattarsi oggi parliamo di storie di riscatto e questo coronamento avviene in un altro record io a me piace citare questi record appunto per darvi per darvi l'idea il 16 gennaio del 1988 180 mila brasiliani riempiono lo stadio Maracanà di Rio de Janeiro quindi diciamo non proprio un posticino piccino per assistere alla performance di Tina ed è l'evento più importante mai ottenuto da un artista femminile e quindi la nostra leonessa come la definivano tutti è arrivata finalmente sul tetto del mondo noi salutiamo sempre Tina ci manca tanto e la ricordiamo sempre ecco questo è questa è Tina ecco la prossima artista non ha bisogno di presentazioni tra l'altro questa immagine è veramente incisiva perché viene dal tour di quest'anno perché Madonna è in tour sta facendo il quarantesimo anniversario di carriera ed è tornata in tour 40 anni che ci stupisce 40 anni che è veramente un'icona 40 anni di sensibilità anche al mondo alla comunità LGBT ai problemi anche delle popolazioni africane lei ha adottato anche dei bambini africani quindi è una persona che oltre ad avere questa sua importanza sul palco è anche una persona comunque che da sempre si batte per i più deboli per le minoranze e per tutti questi argomenti Madonna nasce in una piccola città del Michigan 65-66 anni fa adesso non lo ricordo esattamente 65 anni fa e ovviamente allora è una piccola città lei non insomma lei iniziava ad andare un po' stretta lei ovviamente sapeva già di avere delle capacità ma soprattutto lei voleva voleva fare molto di più purtroppo la mamma di Madonna che si chiama Luiz Veronica Ciccone di origini italiane lei è sempre molto fiera di queste sue origini la mamma muore quando lei è una ragazzina e lei aveva tanti fratelli piccoli quindi il papà le dice scordati le tue le tue manie di grandezza le tue ma che non credeva nemmeno nel suo talento scordatele e tu adesso stai qui e ti occupi dei tuoi fratellini lei però ovviamente aveva delle altre idee sapeva probabilmente di essere determinata di avere del talento di avere tanta tanta forza tant'è che io dico sempre nel 1984 fa un'apparizione televisiva questo American Band Stand che è un programma che c'era in cui intervistavano e facevano ascoltare dei brani e il famoso Tic Clark il presentatore questo c'è su YouTube se avete voglia di guardarvelo le dice ma Madonna cosa vorrà fare da grande quali sono le tue ambizioni lei rispose proprio to rule the world che in inglese vuol dire governare il mondo che cosa poi per quanto riguarda il mondo musicale diciamo che è da 40 anni che ci riesce quindi con soli 35 dollari in tasca lei scappa da questo paesino del Michigan ovviamente contro la famiglia contro il volere del papà che abbiamo parlato di stereotipi che la voleva insomma a tirare su il fratellino occuparsi della casa cucinare e fare queste cose le dice certo bello va bene tutto però io voglio provarci cioè voglio avere la possibilità di misurarmi con quello che è il mio talento quindi con soli 35 dollari va a New York che era un po' la meta diciamo di tutte le donne che volevano e tutti gli artisti che volevano dedicarsi ovviamente inizia con i lavori più umili non ha un posto dove stare va da un'amica in affitto quindi insomma dorme sul divano come tanti ragazzi in cerca di fortuna per virgolette inizia in un monolocale alla periferia di New York ovviamente inizia ad esibirsi e lei essendo determinata talentuosa inizia come ballerina anche quindi anche per questa sua diciamo bellezza che aveva e che ha tuttora da lì inizia la gavetta quindi piano piano inizia ad essere notata e poi insomma la storia la conosciamo e vi leggo solo un qualche numero giusto per non essere troppo pesanti ma credo che sia importante secondo il Guinness leggo secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica 350 milioni di dischi quando ancora i dischi si compravano attenzione perché adesso un conto lo streaming ma allora proprio di dischi fisici e ha avuto ovviamente un sacco di premi Grammy Awards Music Awards è stata anche attrice quindi Golden Globe Film con Evita è anche l'artista che ha piazzato più DVD musicali nella classifica di Billboard dedicati ai DVD quindi io le auguro altri 40 anni di carriera e veramente quando si parla di donne che hanno sfidato gli stereotipi e le convenzioni nella musica direi che Madonna sia uno dei nostri esempi abbiamo parlato di due artisti americani ma anche in casa nostra abbiamo delle artiste che non scherzano eccola qui questa è la Redona Verter anche lei ultimamente tra fare il giudice a questo talent televisivo e soprattutto l'ultimo Sanremo con questo brano pazzo che è meraviglioso lei è ancora sulla breccia ha festeggiato i 70 anni qualche anno fa quindi questo per dire che veramente non ci si deve porre assolutamente nei limiti di nessun genere per seguire i propri obiettivi lei è la signora del rock insieme diciamo all'altra signora del rock che è la Nennini loro sono proprio le rocker italiane è sempre stata una trasformista è sempre stata una che ha voluto anche stupire coi suoi look anche per questo gusto della provocazione ma provocazione non tanto giusto per il gusto di provocare ma per lanciare dei messaggi questi outfit anche centrici che aveva quando era era giovane bellissima tra l'altro anche adesso insomma diciamo aveva queste gambe meravigliose ancora queste minigonne sul palco a 70 anni perché voleva proprio sfidare le convenzioni e gli stereotipi e dopo tante relazioni questo ve lo ricorderete diciamo un po' tutti quelli che insomma diciamo che non sono proprio dei giovincelli si sposa col tennista Bjorn Borg sembrava un'unione da favola tutti belli tutti due belli tutti due famosi e in realtà lui le impedirà di perseguire i suoi obiettivi di continuare la sua carriera vuoi anche forse un po' invidioso della popolarità di Loredana che probabilmente era più popolare di lui forse diciamo la verità e lui le dice assolutamente non sono d'accordo col fatto che tu continui a cantare quindi lei per un po' esce diciamo dal music business esce dai palchi però ovviamente non era proprio quello che lei era destinata a fare iniziano i problemi Loredana ha una storia difficile perché Bjorn Borg tenta il suicidio e lei a salvarlo e lei a diciamo a tirarlo fuori da questa situazione però questa sua situazione così difficile la porta anche lei ad avere delle difficoltà e anche lei nel 1991 tenta il suicidio e viene ricoverata per tentato suicidio però alla fine ci pensa probabilmente e dice ma è proprio questo che io devo fare e sfodera tutta la sua grinta la sua verve quella che vediamo lascia il marito che le impediva di perseguire i propri obiettivi lascia Bjorn Borg e ritorna sul palco ed allora noi la vediamo splendida con questi capelli azzurri le farfalle nei capelli questi outfit e lancia dei messaggi dei messaggi veramente importanti come quando si era vestita la sposa al festival bar che già imitava Madonna anzi prima di Madonna o quando andò a quel Sanremo con la finta gravidanza con la pancia finta insomma erano tutti i messaggi che lei voleva mandare lei voleva sfidare degli stereotipi sfidare delle convenzioni sfidare un tipo di mentalità quindi grande Loredana noi ti amiamo moltissimo un'altra itola americana di origini italiane anche lei fierissima delle sue origini italiane è Stephanie Germanotta al secolo Stephanie Germanotta ma tutti la conosciamo come Lady Gaga e Lady Gaga che oltre ad essere una una donna che punta tanto su comunque sugli outfit sull'aspetto esteriore giustamente in realtà è un artista e lo dico da musicista lo posso lo posso assolutamente dire è un artista che comunque a parte è dotata di una voce meravigliosa scrive brani compone suona al piano è veramente un artista a 360 gradi le canzoni le scrive lei ci sono potete cercarla anche su YouTube proprio dei momenti piano voce suoi in cui è da brividi quindi oltre a questi outfit a questo look un pochino che fa anche un po' il verso madonna tra l'altro sono amiche molto amiche è veramente è un artista completa tant'è che all'inizio di carriera le dissero guarda sei molto brava però sei brutta quindi non rispettava i canoni estetici gli stereotipi imposti dal music business e vuole tutte magre alte bionde con gli occhi chiari insomma le dissero guarda se ti va bene tu scrivi pure questi brani sono belli sei brava scriveli per le altre artiste ma cantarli tu no e lei disse proprio questa cosa per via del fatto che non sono molto bella a inizio carriera mi dicevano di far cantare le mie canzoni ad altre ma io non ho mai accettato ho sempre creduto nel mio talento ho lavorato duramente per molto tempo si tratta di non mollare e poi diede questo messaggio alle giovani artiste se avete un sogno lottate se avete disciplina per una passione lottate per uscire da questi stereotipi nel quale il music business ci vuole e ad oggi Lady Gaga ha venduto 124 milioni di dischi in tutto il mondo risultando tra gli artisti con maggiori vendite dell'era digitale una cosa che io amo sempre raccontare di Lady Gaga e di questa sua storia difficile e a 19 anni come succede a tante ragazze è stata vittima di una di una violenza e lei l'ha dichiarato pubblicamente quando è diventata diciamo famosa perché dice che la sua diciamo che la sua importanza come personaggio pubblico e la risonanza dei suoi contenuti potrebbe aiutare altre ragazze a raccontare ciò che hanno subito o perlomeno a farle sentire diciamo meno sole in quello che stanno vivendo e ha detto io voglio anche un pochino sfruttare perdonatemi il termine la mia la mia immagine pubblica per dire per dire questa cosa infatti qualche anno fa lavorò appunto a un documentario The Hunting Ground da cui prende anche il titolo una sua canzone che è proprio un documentario sugli abusi sessuali nelle università degli Stati Uniti è proprio un documentario che consiglio a tutti di guardare lei proprio come è successo a lei ha voluto denunciare quindi una figura che ha uno spessore veramente importante io mi ricordo quando iniziò la sua carriera col fatto che si vestiva in questo modo probabilmente considerato trasgressivo dicono guarda un'altra un'altra donna che vuole solo apparire in realtà c'è tanto 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 dietro questa questa ragazza che per me insomma io brutta non la vedo assolutamente probabilmente magari piccina minutina forse ha delineamenti un po' particolari comunque non questa cosa è veramente tragica è successa anche con Adele è successa con altre con altre donne che non rispettando gli stereotipi canoni imposti da questo music business aveva ricevuto questo tipo di risposta e quindi io direi che con questa con questa ultima artista ce ne sarebbero tante di cui parlare ma ho parlato di queste quattro che sono tra l'altro icone planetarie che sono anche molto riconoscibili per appunto raccontare queste storie grazie spero di non essermi dilungata troppo riconsiglio le cuffie a Milena grazie a tutti allora sono io a ringraziare Francesca Mercury che la potete seguire nei suoi spettacoli ci ha dato delle testimonianze importanti oltre che molto interessanti anche la storia della musica proprio perché è patrimonio di tutti e di tutte quindi narrare queste storie si seguono molto volentieri perché sono storie vere e dietro questo successo queste figure che sembrano così lontano da quello che può essere il percorso di vita di tanti invece no si possono seguire anche degli esempi e scoprire delle cose importanti sicuramente interessanti due cose richiamo il fatto rispetto a quello che diceva Francesca il fatto della testimonianza come vittima di violenza allora denunciare la dico proprio da esperta di questo argomento denunciare una violenza è una delle cose più difficili da fare per una donna a differenza di tutte le altri tipi di violenza perché comunque non c'è poi la possibile un possibile percorso un altro tipo di violenza nella violenza di genere si avvia con la denuncia non solo la paura non solo la possibilità di ritorsioni e quant'altro ma anche la possibilità di essere messa in discussione per anni e seguendo poi il processo quello che può essere si è continuamente messa in discussione tanti dei motivi per cui denunciare è difficile una delle cose che aiuta molto poi questi sono espertissimi quelli che sono i centri i capi i centri di antiviolenza le case di rifugio queste persone qua hanno un'esperienza incredibile sono sempre da intervistare abbiamo sempre da imparare da loro una delle cose che funziona di più sono queste dichiarazioni pubbliche le persone che come Lady Gaga lo hanno fatto hanno creato un varco hanno dato la possibilità a seguito di queste testimonianze hanno dato la possibilità di farlo anche ad altre sono quindi cose importanti l'ho vissuto anch'io personalmente in momenti pubblici dove una cantante dichiarò la sua violenza e poi la violenza psicologica del figlio che ha subito per anni che lo portò al suicidio lo dichiarò sul palco e si creò un senso di aiuto tra varie una rete di aiuto per cui tante altre donne hanno avuto la possibilità almeno di dichiarare di esternare questi problemi un'altra cosa dico e mi avvio alla conclusione che noi siamo qui abbiamo parlato abbiamo affrontato il tema pensando questo webinar portando delle storie quindi lo storytelling è uno degli strumenti delle forme formative che portano di più a sensibilizzare attraverso una storia vera a sensibilizzare su un tema non è mai finito questa possibilità di diffondere queste informazioni abbiamo quindi parlato di problemi che ostacolano ostacolano i percorsi di vita e di in qualche modo di autorealizzazione di autonomia di una persona e quindi di salute e la dottoressa Bacchi non si è potuta collegare perché ci sono altre urgenze di direzione sanitaria come potete immaginare però faccio mia vi riporto una frase che mi diceva sempre l'ex direttrice sanitaria quella che precedeva la dottoressa Bacchi cioè la dottoressa Borsari che diceva Milena fare salute è sì aprire degli ospedali ma è soprattutto prevenire tutti tanti dei problemi che la società provoca quindi quello che arriva poi ai nostri consultori ai nostri centri di violenza ai nostri centri per la salute mentale quelli che arriva se arrivano lì vuol dire che non solo noi il sistema sanitario il sistema sociale il welfare abbiamo in qualche modo fallito per cui queste non sono solo parole al vento questo è un modo per sensibilizzare per formare per diffondere quanto è importante quello che è la consapevolezza del fenomeno e quello che si chiama comunque in gergo tecnico la prevenzione primaria che è quella che stiamo cercando di fare attraverso anche questo webinar con delle narrazioni e con delle informazioni a tutto tondo di vere storie di donne in tanti percorsi di vita e professionali che comunque hanno stuzzicato perlomeno la nostra curiosità io dunque che ore abbiamo fatto? 56 francesca francesca siamo perfetti no patrizia io non ho visto delle mi sembra non ho visto delle domande ci sono domande riflessioni no no non ci sono ok quindi io direi che abbiamo concluso ricordiamo che il webinar la registrazione rimane fra pochi giorni sarà caricata sul sito del Cug Comitato Unico di Garanzia ben raggiungibile da ovunque dall'esterno basta googolare come si dice Cug a US di Modena a breve comparirà il link di registrazione per chi lo ha perso con questo ringrazio davvero Francesca Mercury che è qui con me Gustavo Dottor Savino Gustavo Savino Patrizia come sempre supporto arrivederci